12 e mezza primo gennaio 2020 dopo i bagordi del 31 dicembre ecco a voi il sottopasso di via Dupré che sale verso via Govone sporco ed estintori utilizzati nel sottopasso, sottopasso sporco, pieno di polvere estinguente sono Paolo Lusconi, il cameraman di City Report, oggi col telefonino stiamo andando verso via Govone, tutto sporco, tutto imprattato malmesso anche il marciapiede dove uno passa questo è Milano, ora c'è il 2020